A tutti voi bentrovati a questo nuovo appuntamento con Focus, momento di approfondimento legato al nostro telegiornale. Quest'oggi in studio ho al mio fianco Eugenio Novaira, che saluto e ringrazio per la sua presenza, fotografo, docente di fotografia, anche e soprattutto viaggiatore, nonché proprio a Eugenio Novaira di recente è stato assegnato il premio FWG Fotografia 2018. Grazie a Novaira oggi faremo un viaggio, un viaggio attraverso terre bellissime, magnifiche, cariche di spiritualità. Vi porteremo in Vietnam e in Birmania, racconteremo attraverso gli scatti, ma poi anche il racconto di Eugenio Novaira a questi paesi, non solo perché parleremo anche di viaggi solidali. Ne parleremo proprio con Novaira che prossimamente accompagnerà chi lo vorrà in un viaggio per visitare e fotografare questi due paesi, oltre anche alla Cambogia. Allora, io direi che ci lasciamo accompagnare in questa nostra chiacchierata proprio dalle fotografie che vediamo già alle nostre spalle. Viaggiatore e fotografo, raccontiamo intanto di questi due aspetti, di questo connubio particolare. È tanti anni che faccio questo mestiere, è una professione che mi ha dato tante soddisfazioni, quasi 30 anni di professione. Faccio dalla fotografia industriale all'arredamento per arrivare allo still life, ritratto, editoria e anche fotografia di viaggio, appunto, come in questo caso. E com'è con unire queste due passioni, quelle per il viaggio e quelle per la fotografia? È una bella domanda. A un certo punto ho pensato proprio perché non unire la professione alla passione per il viaggio e un approfondimento chiaramente culturale di regioni geografiche che mi interessano. Adesso noi partiamo raccontando il Vietnam e vedendo anche alcune fotografie che sono state scattate in occasione del viaggio dell'anno scorso. Ci racconti allora di questo paese e come ha voluto raccontarlo attraverso questi scatti soprattutto? Ecco, il Vietnam è un paese che ha sofferto molto sicuramente, è un paese estremamente interessante e anche molto vario. Potremmo parlare per ora, per ore, del Vietnam. Era un desiderio che avevo da molti anni e a un certo punto mi sono detto, beh, adesso è ora, è ora di farlo. Quindi sono partito e dopo il primo viaggio ho organizzato un viaggio fotografico. L'anno scorso, a marzo, siamo andati ad Anoy, nel nord del Vietnam, nella capitale, e poi siamo andati sempre più a nord, nella provincia di Ajang, si chiama, verso il confine con la Cina. Quindi fuori dal turismo di massa, dai sentieri più battuti del turismo di massa. Ed è stata un'esperienza unica, direi irripetibile. Che cosa vediamo in questa immagine, per esempio? Questo è Tai Chi, praticato da noi, c'è un lago, la mattina presto, se vai lì all'alba, ti devi svegliare prestissimo, quando fa ancora buio, le persone vanno appunto a fare Tai Chi, arti marziali, o anche, come si chiama, questa ginnastica, dance, gym. Ed è una cosa particolare, che fanno anche a Saigon, per esempio. Però lì è da noi, ecco, questo per esempio, questa immagine è lo yoga della risata. Si trovano lì, c'è un operatore che praticamente fa ridere le persone, perché pare che faccia molto bene. Sia molto d'aiuto, beh, insomma, immaginiamo che possa funzionare. Sicuramente è bellissima questa immagine, rende lo spirito. La cosa che l'ha colpita di più di questo paese? Che è un popolo, il popolo, sì, decisamente. È un popolo molto fiero e molto forte, perché, insomma, ha dovuto attraversare, ha dovuto affrontare delle difficoltà enormi, sia durante la guerra che nel dopoguerra, anche nel dopoguerra. Ecco, com'è proprio il rapporto con la storia, con il passato? Com'è stato gestito, affrontato? In modo molto funzionale, deve essere sempre affrontato in modo molto efficiente e funzionale, perché le risorse sono limitate e quindi va da sé che se non c'è un'organizzazione funzionale non ne vieni fuori. Allora, direi di fare un salto adesso in Birmania per mostrarvi altri scatti di Eugenio Novaira. La Birmania che cosa rappresenta per lei? La Birmania era un altro sogno nel cassetto, perché anche lì erano tanti anni che volevo andare in Birmania e alla fine mi sono deciso e diciamo che la realtà ha superato le aspettative, ha superato l'immaginazione. Effettivamente, sì, sono rimasto molto colpito da questo paese e ci tornerò appena potrò. Ecco, perché proprio la scelta del sud-est asiatico? Da questi scatti ovviamente percepiamo delle cose, però mi piacerebbe che lei raccontasse da come è nata la decisione di visitare, di fotografare, immortalare proprio questi paesi. Beh, diciamo che la responsabilità è di Tiziano Terzani, perché leggendo i libri di Tiziano Terzani non può, sì, non venire il desiderio di visitare il sud-est asiatico. Quello è stato allora lo spunto, la spiritualità di questi paesi. Ah, è grandissima, cioè proprio la respiri ovunque, nel quotidiano, ed è un'atmosfera sempre molto rilassante. Ti senti al sicuro, ecco, rispetto ad altri paesi dove magari sei così un po' sul chi vive e lì invece ti senti tranquillo e rilassato. Ecco, vediamo un po' da questi scatti che sono tante le cose che si possono fissare. Sicuramente i paesaggi, poi ovviamente ci sono anche le persone, c'è l'aspetto antropologico anche, no? Ecco, il suo obiettivo da che cosa è attratto normalmente? Ma è attratto dal sociale, è attratto dal paesaggio, è attratto, sì, dalle persone. E quindi non mi limito a fare del paesaggio, ma anche ritratto spesso. E poi passo sempre un periodo del viaggio nella capitale o in una metropoli, perché lì i soggetti sono tantissimi e sempre molto interessanti. Che cosa vediamo in questo scatto? Ah, questo è un laboratorio dove fanno la seta di loto. Cioè la Birmania è l'unico paese dove trovi appunto questa seta di loto, perché il fiore di loto ha un gambo molto lungo e tutto fatto a mano, si spezza il gambo e viene fuori appunto questo filamento, questa fibra, che poi viene tessuta e si fa la seta di loto. Allora, parliamo di viaggi solidali, viaggi responsabili. Cerchiamo intanto di far capire in che cosa consistono, qual è la filosofia alla base di questi viaggi, per poi parlare di quelli appunto che guiderà lei. Esatto, come le dicevo prima, quando ho unito la professione alla passione per i viaggi, e oggi ho cercato di farlo in modo responsabile. Quali sono i valori aggiunti di viaggi solidali? Questo tour operator di Torino, che opera dal 2004, come onlus praticamente, e dunque la differenza rispetto ai viaggi tradizionali, diciamo al turismo di massa, è per esempio l'incontro, la relazione, il dialogo con le popolazioni locali, con le comunità locali. Spesso si va proprio a casa loro e si dorme a casa loro, come in Vietnam per esempio ci sono gli homestay, che sono come i nostri agriturismo, per intenderci. E questa è già una cosa diversa, perché ti fa conoscere gli aspetti più autentici del viaggio, rispetto per esempio al turismo di massa. sempre rispettando appunto la diversità ambientale e culturale, quindi le tradizioni locali, e aiutando proprio economicamente, perché c'è un fondo di solidarietà che negli ultimi anni ha distribuito già mezzo milione di euro ad associazioni, organizzazioni non governative che si occupano appunto di sostenibilità ambientale, di educazione e giustizia sociale. Allora, siccome abbiamo quasi finito il tempo a nostra disposizione, avete visto più volte in sovraimpressione apparire i riferimenti di due siti. Uno è viaggisolidali.it, l'altro è www.eugenionovaira.com. Ecco, li vedete ancora. Qui potete trovare altre informazioni se siete interessati a saperne di più. Approfittiamo degli ultimi secondi che abbiamo a nostra disposizione per comunicare le date dei prossimi viaggi solidali, della durata di 14 giorni. Sì, 14 giorni, 13 notti, accompagnati da delle guide locali che parlano italiano, che più che guide turistiche sono degli operatori culturali, ecco un altro valore aggiunto, e le date sono per quanto riguarda Cambogia-Vietnam lungo il Mekong il 18 di gennaio e invece per quanto riguarda la Birmania il 23 di febbraio, lontani quindi dai monsoni, dalla stagione monsonica con il clima migliore, ecco, per il viaggio fotografico. Allora, vi ricordo ancora www.viaggisolidali.it www.eugenionovaira.com per avere ulteriori informazioni rispetto a questi viaggi. Un ultimo dato, entro il 15 novembre vanno effettuate le richieste di prenotazione per Cambogia e Vietnam, entro il 30 novembre per la Birmania. Sì, soprattutto per i voli, per prenotare i voli. Ci vuole, bisogna prendersi per tempo. Allora, noi ringraziamo moltissimo Eugenio Novaira per essere stato con noi. Naturalmente, buon viaggio e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima!